La mia non è Ok, niente, ci risentiamo per quella Ma tu mi risolvi, chiami che? Guarda che pecomiare, io direi che non ho proprio 49 E poi ora non ve neppure E come fa la prossima se fa? Ha detto che già sono i giorni Ma allora come dice che si vedeva come Eh, ma è tu ma come? Ma come ha detto che si? Ma no, tu quando si arriva Stasera Perché Enza è un po' che sto a tirare via Enza, sei sicura? Francesca, Francesca è sempre quella Ok, così che ha fatto Ok, ti do una vasera Ci sono tutte cose Se ci possiamo fare Le cose Trove è un'altra cosa Allora Iniziamo a vedere qualcosa Se c'è qualcosa